dell'Umbelgio, dell'America, Canada e Francia, dell'Australia si sposta in Germania, bene la Svizzera e bene la Smania, cari amici di terre lontani, iniziate un via! Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Para Rosario. Para Rosario lo dedicamos a esta tarantella, Rosario Montepaoni, Graciela, que seguramente están escuchando. Un saludo grande de todos los que estamos aquí. Feliz Día del Padre para todos. Feliz Día para todos los padres. Feliz Día para todos los papi y toda la audiencia. Vamos, Aniel. Feliz Día para todos los padres. Saludos para toda la familia, para mi novia. Gracias.